Era stata annunciata ed è arrivata davvero la neve. L'inverno ha fatto irruzione, come da previsioni della protezione civile, spazzando via le più o meno miti giornate dei giorni passati. Il termometro era sceso in picchiata già nei giorni scorsi, con sbalzi di temperatura di 10 gradi. Da ieri sera hanno iniziato poi a cadere i primi fiocchi e questa mattina era tutto imbiancato il Vallo di Idiano, così come l'intera provincia di Salerno, fino anche alle sue spiagge, si è svegliata coperta da una leggera coltrebianca. Scenari da cartoline, immagini natalizie che anche con qualche giorno di ritardo scaldano il cuore dei grandi e rendono felici i bambini che per strada possono darsi battaglia a colpi di palle di neve. Le gelate però creano difficoltà che potrebbero presentarsi soprattutto domani essendo previsto un ulteriore abbassamento delle temperature nelle prossime ore. Ecco allora che alcuni primi cittadini del Vallo di Idiano già da qualche giorno, su invito della protezione civile regionale, avevano pubblicato i cosiddetti piani neve, consigli utili per ridurre i disagi alla popolazione. Sono stati diffusi anche via social i numeri utili da contattare in caso di necessità e per garantire assistenza a domicilio ad ammalati e anziani. Intanto la provincia di Salerno all'opera per il servizio di spazzamento sulle strade di sua competenza, i comuni per lo spargimento del sale con i mezzi spazzaneve anche sulle vie secondarie. L'allerta neve è stata prorogata dalla protezione civile fino alle ore 20 di oggi.